Ecco sì, anche se tolgo l'etichetta magari... che rimbambito! Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video, come vedete c'è una qualche novità. Per prima cosa, l'avrete visto anche dalla copertina, è cambiato un pochino lo sfondo. Devo dirvi che non sono particolarmente convinto di questo sfondo, però avevo bisogno di cambiare un pochino e quindi diciamo che il tutto ha preso un po' il volo. Infatti se vedete non c'è più il tavolino dietro, non c'è più la candela e quella un po' mi dispiace, devo trovare il modo di appenderla da qualche parte perché io la mia candelina profumata la voglio sempre. Comunque sì, c'è questa novità che non so se durerà tanto, se domani l'avrò già cambiata, se aggiungerò roba, non lo so. Intanto è così per oggi. E poi come vedete sapete ormai chi mi conosce e sa che quando io ho il cappellino in testa è perché è successo qualcosa. E c'è appunto una seconda novità, ve la mostro subito. Siete pronti? Eccoli qua! Finalmente o forse purtroppo ho fatto questo colore. Devo ancora tagliarli, vorrei tagliarli ma non li ho ancora tagliati perché veramente non ho avuto tempo, siccome faccio tutto da solo. E per adesso questo è il colore. Devo dirvi appunto che non mi convince, non lo so, non mi ci vedo particolarmente. Diciamo che da una parte mi piace, da quell'altra no. Anche perché appunto sono troppo lunghi e... Boh. Comunque il video di oggi non è di sicuro sui miei capelli o su queste cose qua, ma ovviamente visto che il cambiamento c'è stato ve lo dovevo dire. Ma oggi andremo ad aprire l'uovo di Pasqua delle LOL Surprise e anche l'uovo di Pasqua delle Santoro Gorgeous. Ho voluto comprarli entrambi per un motivo. Questo qui mi sembrava uguale, identico a quello dello scorso anno. Invece questo qui mi incuriosisce veramente un sacco e quindi li ho acquistati. Facciamo una specie di mini recensione, ci proviamo? Allora, per prima cosa, come vedete, è abbastanza grande. Sono quelle uova un po' standard, infatti questa è 240 grammi, invece quella delle LOL è 280. E come vedete questa ha la carta, per fortuna, personalizzata, a differenza di quella delle LOL, con questo disegno di una delle bamboline, diciamo bamboline, di uno dei personaggi. Qui ovviamente c'è il logo Santoro Gorgeous e c'è scritto che ovviamente c'è una sorpresa. È prodotto dalla Balocco e una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che c'è scritto cioccolato finissimo al latte. Ma io se voglio mangiare il cioccolato, non voglio un cioccolato finissimo, cazzo! Io voglio il cioccolato spesso, quello da tocco! Infatti non capisco perché debbano fare le cose con il cioccolato finissimo. Probabilmente per risparmiare il cioccolato, effettivamente, così lo fanno più grande ma più sottile e risparmiano. Comunque è lo stesso. Questo qui comunque è l'uovo, sicuramente l'avrete già visto, c'è praticamente in tutti i supermercati e mi piace anche solo così perché la carta comunque è bella e voluminosa. Invece quello delle LOL purtroppo, come sempre, è un po' una ciofeccata perché Dolci Preziosi, che è ovviamente del gruppo Giochi Preziosi, mi viene in mente la mia amica Elisa di Arilis Chest parlando di Giochi Preziosi. Vi lascio qui sopra un suo video da andare assolutamente a vedere, se non l'avete ancora fatto, anche se sicuramente l'avrete già visto tutti, in cui parla anche di Giochi Preziosi. Comunque Dolci Preziosi fa sempre la stessa identica carta, infatti se vedete la carta ha questo decoro che con le LOL non c'entra assolutamente nulla, perché è riciclata e riutilizzata per tutte le varie uova che fa Dolci Preziosi. L'unica cosa che c'è delle LOL è questo cartoncino qui davanti, che ovviamente è la stessa identica cosa di quello dell'anno scorso, non ha cambiato assolutamente nulla. Ci stupiamo ancora di Giochi Preziosi e soprattutto delle LOL, io ormai no. Sono curioso di aprirli e vedere cosa c'è all'interno. Quindi iniziamo subito con questo qui dell'Essantoro. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che questo qui dell'Essantoro l'ho pagato, se non sbaglio 7,99€, invece questo qui delle LOL l'ho pagato 9,99€. Allora, no, per fortuna le forbici. Una volta si usava mettere qui, chiuderli con un nastrino, adesso invece si va a risparmio, anche in questo caso c'è lo scotch. Quindi cerchiamo di aprirlo senza tagliarmi un dito. Ecco, voi se dovete farlo a casa, magari non utilizzate queste forbici per aprire un uovo di Pasqua, perché sono effettivamente un po' esagerate. E ok, questo è l'uovo. E non lo so... Ah, si sente, non so, sentite nel microfono. Si sente che c'è qualcosa all'interno. Vediamo se riesco a non farlo esplodere. Ce l'ho fatta. Cioccolato. E all'interno c'è un puzzle, dentro un sacchettino. Un semplicissimo puzzle, però adesso non so dirvi quanto sia grande. Ah, ma è un puzzle magnetico. Figata allora, mi piace un sacco questa cosa. Se riuscissi a togliere gli elastici ve lo farei anche vedere volentieri. Praticamente figo, questa è un'idea geniale. Ci sono tutti questi pezzettini di puzzle all'interno, dove dietro hanno questa parte calamitata, per poter comporre il puzzle tipo sul frigorifero, sulla caldaia, non lo so, di solito sul frigorifero. Io non so dove lo farò. Magari sì, lo farò anche sul frigorifero. Anche perché l'immagine che mi è capitata, non so se sono diverse o se sono tutte uguali, però quella che è capitata a me mi piace un sacco. E la possiamo vedere in questo fogliettino che c'è all'interno, dove appunto ci mostrano il disegno che c'è sul nostro puzzle. Devo ammettere che questa sorpresa non mi ha affatto dispiaciuta, anche perché penso che sia abbastanza grandicello. Vediamo se riesco a trovare i pezzettini del viso. Ecco, per farvi capire, questa è la grandezza del viso, del puzzle. Non mi sembra per niente male. Alla fine di questo video potrei anche andare a farlo direttamente sul mio frigorifero, fargli una foto e lasciarvela qui adesso. Così ve lo faccio vedere anche finito. E il cioccolato, devo dirvi che non è per niente male. Credo che sia molto più buono. Non si parla con la bocca piena. Credo che sia molto più buono di quello delle LOL. Però prima dobbiamo fare il paragone, quindi andiamo ad aprire quello delle LOL, che questa volta ha ancora il nastrino, quindi c'è più facile da aprire, fortunatamente. Una cosa positiva con le LOL l'hanno fatta. Togliamo il nastrino. E questo è l'uovo delle LOL, che è praticamente uguale all'altro. La grandezza è identica, credo. Vediamo. Sì, è identico, solo che probabilmente il cioccolato è un pochino più spesso, per il resto è uguale. È anche un po' più scuro. Andiamo ad aprirlo. E all'interno, cos'è sta roba? Sì, comunque il cioccolato è decisamente più spesso, non so se lo vedete qua. Sì, il cioccolato delle Santoro è più buono. Sai più da cioccolato e meno da zucchero. E effettivamente anche su questo dolci preziosi, ho capito. Io con giochi preziosi me li sono bruciati per la vita. All'interno ho trovato questa scatolina, che sono praticamente degli stickers. È tipo un rotolo di stickers. Vediamo di aprire anche questo. Forbice alla mano. Cerchiamo di capire com'è sta cosa. Io l'anno scorso non ho trovato questo, ma se non sbaglio ho trovato una gomma fatta a rossetto. Voi fatemi sapere cosa avete trovato, se anche voi avete trovato questa cosa, e soprattutto se è un reciclo dell'anno scorso, che sono curioso. Perché da giochi preziosi non mi stupirei. Questa cosa non è proprio comodissima da utilizzare. Come cacchio si fa? Già che la scatola è mezza sfasciata, ci arrivo, eh. Vi assicuro che ce la posso fare. La scatola mi è arrivata completamente distrutta per quello, ma poco mi interessa. E all'interno appunto ci sono gli stickers che se noi andiamo a tirare escono tutti. E sì, sono carini. Così dovreste riuscire a vedere qualcosa. Ci sono questi sticker, alcuni con le lolli intere, alcuni mezzo busto, alcuni solo viso. Ecco, insomma avete capito dai. E ce ne sono ben 100 all'interno. Adesso se fossi qualcun altro starei dicendo Wow, meraviglioso, fantastico, bellissimo. Andate tutti a comprarlo. Invece no, io vi consiglio decisamente quello delle Santoro, soprattutto perché il cioccolato è più buono. E sinceramente piuttosto di 100 stickers così, delle lolle, preferisco assolutamente il puzzle magnetico delle Santoro. E anzi mi mangio un altro pezzettino di questo cioccolato perché oggi non ho neanche pranzato. Ormai è sera e sto svenendo dalla fame. Mi sono ricordato solo adesso, infatti sono corso di là a prenderle. Come sapete sono molto svampito e le cose io me le dimentico da un momento all'altro. Ho da aprire con voi anche una colombina delle LOL e un'altra colombina delle LOL. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere. Anche in questo caso la confezione è palesemente riciclata dallo scorso anno. Identica, spiaccicata, non c'è niente di nuovo. Ci sono tre LOL qui davanti che sono le stesse che ci sono sul retro. E sui lati c'è scritto subito un'originale sorpresa per te. Vediamo com'è all'interno. Non voglio perdere troppo tempo perché tanto non ha senso. C'è ovviamente la colombina che adesso andremo ad assaggiare. Ma prima voglio vedere la sorpresa. Cos'è sta roba? Braccialetto? Ah ma sono quei braccialetti. Ma non è un braccialetto sta cosa. Scusate ma adesso io mi sembra un po' piccolo come braccialetto. Vabbè non dite miei per bambini e per bambini perché io non li ho mai visti così piccoli. Ne ho anche di Wonder Woman, delle DC Super Hero ma sono più grandi di questo qui. Questo braccialetto di quelli con dentro la parte metallica con questa LOL e... Ok andiamo subito ad aprire l'altro così vediamo la sorpresa. Ah sì insomma un braccialetto per ogni colombina giustamente. Questo è ghiepardato, leopardato insomma questa roba qui con questa LOL. Anche questo ovviamente è molto grande. Ma non si attacca nemmeno. Sì per riuscire a farlo attaccare dovete tipo spaccarvi il polso. Però... Adesso però oddio mai canditi questa cosa no? Vi prego ditemi che non hai canditi. C'è scritto colombina senza canditi. Praticamente io sto cenando con queste robe. Vediamo com'è questa colombina. Oddio sto perdendo pezzi dappertutto. Questa è decisamente molto meglio dell'uovo di dolci preziosi. La colombina è effettivamente più buona e costa anche molto meno. Quindi ragazzi queste erano le uova di Pasqua. Delle LOL e delle Santoro con le relative colombine. No relative un tubo perché sono le colombine solo delle LOL. C'è una mosca che gira bastarda. Devo ammazzarti. Fatemi sapere quale uovo avete preso voi se avete preso i classici Kinder, Basta Mosca. Oppure le LOL oppure le Santoro. Fatemi sapere quali uovo avete preso e cosa avete trovato all'interno qui sotto nei commenti. Se questa mosca non la smette di girare va a finire che veramente do fuoco alla casa. Vi voglio solo anticipare visto che siamo a tema Santoro Gorgeous che ho comprato questo album di figurine che però vedremo insieme in un prossimo video. E ovviamente ho comprato anche le figurine. Quindi se vi piacciono le Santoro Gorgeous assolutamente aspettate quel video che arriverà molto presto. Io ragazzi spero che questo video come sempre vi sia piaciuto. Spero che vi piacciono le novità, lo sfondo, i miei capelli, insomma un po' di tutto. Ogni tanto sapete che io devo cambiare, devo fare. Dopo un po' mi stufo e quindi devo continuare a cambiare. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarmi qui sotto un like e di seguirmi anche su Facebook e su Instagram. Io ragazzi vi saluto, vi mangio, vi mangio. Vi mangio. Io ragazzi vi saluto e vi mangio. Giusto. Ok. Io ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Io ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.